La Corropoli torna protagonista in Abruzzo presentando la 34esima edizione del Palio delle Botti e della rievocazione storica della Pentecoste gelestiniana. Il sabato è dedicato in particolare alla funzione religiosa dove ci sarà la consegna delle chiavi e la benedizione del nuovo Palio, la benedizione delle contrade, quindi tutta una rievocazione prettamente religiosa. Durante la serata il lancio della sfida tra le contrade, poi ci saranno i giochi popolari che coronano un pochettino quello che è lo spirito tra le contrade. Per passare alla domenica dove ci sarà la giornata culmine dove presentiamo una sfilata storica composta da circa 250-300 costumi d'epoca. Quest'anno presenteremo due nuove figure, il duca e la duchessa, per poi presentare quello che è il 34esimo Palio, quindi la disfida vera e propria tra le contrade. Quest'anno saranno sei contrade a contendersi il titolo. La contrade vincitrice Piane Sandodonato, che ha vinto l'edizione precedente, sarà sfidata dalle altre sei che saranno Contrada Cattapane, Centro Storico, Colle Maiulano, Contrada Ravigliano e Contrada Vibrata.